Salve e buongiorno, lo scopo di questo video è un po' fare una riflessione che puramente come sempre personale non pretende nessun tipo di oggettività sotto questi aspetti ma discutere su quello che è un tema che considero fondamentale, importante all'interno del paganesimo sia paganesimo che cancel culture, nel senso che c'è la mia percezione in generale soprattutto ad un livello di proposta di corsi, non voglio parlare del singolo perché ognuno fa il cacchio che gli pare questa tendenza ad uniformare, appiattire, rendere omogeneo quello che è un percorso che già paganesimo significa tutto e significa niente per alcuni aspetti visto che è un termine ombrello poi però lo si tende ad uniformare, a rendere qualcosa di omogeneo in modo tale che possa essere, come dire, usufruito da tutti sotto alcuni aspetti ossia si tendono ad omologare le proposte faccio un'ipotesi molto banale ma che è un cavallo di battaglia della quale si parla per anni allora, abbiamo la situazione che ti cade la tegola in testa dentro casa oppure c'è il brutto sogno, mannaggia il brutto sogno cosa fai? chiedi un consiglio brucia la salvia bianca e il palo santo casomai brucia anche, non lo so, le penne degli indiani chiama un curandero dall'Amazzonia vengono dall'Amazzonia chiamalo, fallo venire qui perché così ti benedice la casa con l'acqua santa e tu risolvi il problema e questa è una risposta che trovo molto grave in un contesto pagano perché la bellezza profonda del paganesimo è esattamente il fatto che sei a casa in ogni posto questo è vero però la casa dove vivi dovresti anche conoscerla per cui probabilmente vai su Amazon a ordinare a 25 euro il cannone di salvia bianca che ti fumi anche perché quello fumandolo ti hanno detto che è purifica ma dimentichi che nel tuo giardino probabilmente c'è della salvia locale c'è dell'ortica che funziona l'ortica sicuramente e ci sta casomè del cardo ci sta del rosomarino e ci sono delle erbe che fanno parte del tuo contesto hanno un profondo senso e potresti usare tranquillamente senza andare a rompere le scatole ad Amazon a chiamare per farti arrivare la salvia bianca perché giustamente in un contesto toctono dove esiste la salvia bianca si usa la salvia bianca e dubito dubito che gli sciamani farebbero il contrario ossia ordinare da Amazon la salvia che abbiamo qui per usarla nelle loro purificazioni perché? perché è banale è scontato che se tu vivi in un posto utilizzi ciò che è del posto e se può sembrare banale dobbiamo essere consapevoli che il nostro paletto santo del cavolo quello probabilmente crea un sacco di devastazione questo perché noi abbiamo deciso che dobbiamo usare il palo santo che come sappiamo deriva da un albero che deve essere morto naturalmente e per anche per parecchi anni e poi lo potresti utilizzare e quindi andrebbero poi verificate tutti questi acquisti e quindi in questa maniera andiamo a operare come pagani quella che è definibile una cancel culture ossia l'appiattimento della cultura locale della bellezza della magia locale della bellezza delle tradizioni locali a fronte di un mainstream industriale che è quello che ti propone la salvia bianca ma stiamo parlando della salvia bianca per fare un esempio possiamo anche parlare di non lo so di sciamanismo perché dovrei fare scusatemi è più forte di me il corso per diventare curandero ma io non voglio diventare curandero perché dovrei definirmi curandero quando il loco probabilmente ognuno di noi ha una tradizione sciamanica che non dico che devi per forza seguire ma almeno conoscere almeno sapere quale può essere la tradizione sciamanica locale quella ad esempio dell'utilizzo dell'unguento per fare il volo estatico e fare l'espansione di coscienza ma perché no cacchio anche la tarantella ha il suo senso all'interno di questo discorso almeno conoscerlo ossia almeno conoscere la cultura dalla quale noi proveniamo per poi ampliarla e non pensare che importando la tecnica dei curanderi e riusciamo a fare qualcosa di migliore non è detto che usando la salvia locale o utilizzando quelle che sono tecniche sciamaniche locali facciamo qualcosa di buono ma almeno è la tipologia di approccio perché penso che il paganesimo come sua proprio radice sia uno sviluppare un conoscere la cultura locale dalla quale puoi muoversi per fare altro non io per esempio sono campano qui vicino c'è la deamefitis non significa che devo per forza odorare la deamefitis se non nemmeno se non me la sento però è importante che io sappia che esista e conosca quelli che sono ad esempio i suoi possibili collegamenti tra le sue caratteristiche è quella di un ecate o come sapere che la stessa porta inferi di cui parla Virgilio è a quattro è a quattro passi e io posso fare un collegamento spirituale culturale con il posto per poi ampliarmi perché altrimenti diventa tutta una forma di appiattimento culturale e poi non capisco parliamo di genius loci e ce ne fottiamo perché poi è preferibile andare a prendere le cose altrove e ignorare totalmente il genere no ma dice quello se il genius loci del posto ha piacere te lo fa sapere se è importante per lui che tu conosca la zona o no ma a me sembra anche un po' un controsenso cioè io penso che ognuno di noi non essendo una mazza di scopa che aspetta che le guide sta così aspetta guida che mi dici devo usare fare rosso o bianco no il paganesimo è un qualcosa che parte da noi quindi siamo noi a dover essere informati a vivere a cercare i collegamenti della nostra cultura con quella più ampia non possiamo aspettare che ci venga a dire il lupo cazzo sta sempre sto lupo il lupo sta dappertutto immaginiamo anche su questo aspetto e ci propongono i famosi animali guida ma teoricamente per quanto possiamo dire che esiste un valore universale non è detto che la stessa cosa abbia uguale valenza dappertutto altrimenti dovremmo anche dire che la luna è femminile e il sole maschile mentre una cagata quindi perché per tante culture è così quindi lo stesso animale in un contesto ben preciso potrebbe potrebbe anche non avere senso per alcuni aspetti come potrebbe avere più senso avere una formica quanto altro e la stessa formica qui e in amazzonia potrebbe non avere l'esatta valenza per quanto vogliamo dire che è tutto uguale perché penso che dal mio punto di vista nel paganesimo non è tutto uguale è tutto diversificato e nella sua molteplice diversità possiamo trovare un'unità che però è diverso dal dire che è tanto poi è uguale il lupo è uguale dappertutto inteso come animale guida o la formica è uguale perché la percezione che io ho di quella guida di quella divinità cambia in base al contesto non possiamo quindi prescindere dal contesto culturale locale della zona la stessa Diana io ho una percezione di Diana di un certo tipo perché vive in una zona qua per esempio c'erano dei boschi di anici poco più avanti c'era come dire l'occhio di Lucifro che è come si definisce l'occhio del diavolo dove si raccoglie dove si si mettevano intorno le famose dette janare che però non era un albero era una pietra dalla quale usciva dell'acqua rossa perché c'era il c'era del ferro dentro ed è importante questo collegamento come è importante sapere che anche simbolicamente qui c'era un noce sapete perché? perché se io vado a fare un viaggio sciamanico il mio viaggio sciamanico non può non può e non deve essere per forza generico fai prendi cammina e cercati una grotta e cercati no io ho il collegamento forte dell'albero di Benevento da persona che vive nel luogo non posso distaccarmi come se non esistesse dalla cultura locale ma è mio interesse viverla integrarmi con essa lavorare con essa perché poi non ha senso fare le grandi cose e lasciare casomai la spazzatura avanti casa o far finte che alcune cose non esistono semplicemente perché è più importante fare il curandero importato da da non so quale posto scusatemi questo è quanto penso rispetto al rapporto del paganesimo con la cultura locale che si deve ampliare certamente conoscere e integrare ogni tipo di cultura perché più ne conosciamo meglio è perché conosciamo i legami ma conosciamo anche le differenze le differenze sono fondamentali importanti non ci si può fissare esclusivamente sulle uguaglianze di un percorso ma è importante invece concentrarsi anche sulle differenze perché quella differenza è ciò che rende peculiare il tuo rapporto con il divino altrimenti siamo collegati ad un divino con la quale avremo un rapporto fra virgolette standardizzato perché è standardizzato il modus operandi con la quale opero che mi dice che quando mi cade quando c'è un ragno in casa quando ho un brutto sogno devo usare la salvia bianca perché così mi è stato detto criticamente me ne fotto se poi può essere diversamente tanto c'è Amazon ordino 20 euro e mi fumo mi fumo e mi aspiro la mia salvia bianca perché poi non ho purificato un cavolo tra l'altro non sappiamo neanche quella salvia bianca da dove viene e ci dimentichiamo di ciò che è di fronte casa questo è il mio pensiero rispetto alla cancel culture pagana che ha delle colpe che secondo me sta mettendo in condizione anche il paganesimo di appiattirsi diventare tutto standard in nome anche di un eccessivo politically correct che è e c'è per cui non si vuole dire non si vuole accettare che possono esistere differenze e soprattutto che queste differenze possono non non essere compatibili ma avere delle peculiarità per cui non sono necessariamente non hanno necessariamente la necessità di viaggiare affiancate ad altre facciamoci una ragione meno canne di salvia bianca e più canne di salvia normale più sciamanesimo locale più un guento meno meno sciamani andini perché noi non è che non so se ci siamo compresi buona giornata non so se ci siamo non so se ci siamo non so se ci siamo